Iscrivetevi con la campanellina se vuoi ricevere questi WBUCK 5,4,3,2,1 Tempo scaduto Prima di iniziare il ricordino del negozio C'è dei followers E mettere il codice supporto a un creatore In questo modo potete ricevere dei regali Appunto un grandissimo Che ha messo questo codice È OMAR Che si è anche abbonato al canale Quindi se voi volete essere salutati nei miei video Io potete abbonarvi a 2,99€ Quindi ragazzi Se volete ricevere delle nuovissime ricompense Dovete guardare assolutamente questo video Questo non utilizza il codice Codingamer582 E voi volete vincere tutte le partite Soprattutto quello del nuovo capitolo Che uscirà tra qualche giorno Dovete mettere assolutamente questo codice Questo non utilizza il codice Codingamer582 E guardate che fine ha fatto ragazzi Guardate che fine ha fatto Quindi volete anche voi sbloccare Delle ricompense gratis Se siete giocatori da Playstation Potrete appunto prendere il nuovo Playstation Plus E riceverete queste ricompense Che state guardando a schermo Sto parlando di un emoticon Più un piccone e una copertura Quindi potrete ricevere queste ricompense Appunto ragazzi Manca meno di una settimana Per la nuova season Season 2 Capitolo 3 E sicuramente Voi siete molto in hype Perché non vedete l'ora Di scoprire Di cosa si tratta Volevo ricordarvi che il nuovo pass È assolutamente da sciopare Quindi prima di scioparlo Ricordatevi di mettere il codice Supporta un creatore Codingamer582 Non dimenticatelo In ogni caso Vi sto aggiornando Con un post Quindi se trovate alcuni post È per questo Siamo vicinissimi Al nuovo capitolo 3 Season 2 Quindi ragazzi Siamo molto vicini Manca meno di una settimana Appunto Lo vedrete Mercoledì E la season Finirà Il sabato E la nuova Ci sarà Domenica Quindi appunto Ragazzi Domenica 19 Una Ligare In collaborazione Con l'Epic Ha annunciato Che questa season Sarà la più bella Che abbiamo mai visto Anche se È amministrato La season 2 Capitolo 2 E dirà Che questo sarà Più o meno Con lo stesso tema Ma intanto Noi Saremo In un altro Specie di ambiente Quindi Nuove cose Diverse cose Ma Diciamo che Il tema È più o meno Lo stesso Utilizzo il codice Codingamer582 Ecco appunto Ragazzi Guardate che fine Fate Come loro Non fate questa fine Ragazzi Muovetevi Mettete il codice Codingamer582 Nel negozio oggetti Di Fortnite Ragazzi Dobbiamo Mettellarlo Perché lui Non utilizza Forse Utilizza Pure Il mio cod Forse Utilizza Il codice Codingamer582 Ora Andiamo a vedere Ragazzi Che questo Mi da il dubbio Che lo usa Soltanto Che ha paura Perfetto Ragazzi Vedete Non utilizza Non utilizza il codice Codingamer582 Utilizzava Quindi ragazzi Vi ricordiamo Nel negozio Di Fortnite Qui in basso A destra Codice Supporto Un creatore Codingamer582 Volei anche Ringraziare Gamblinus E quindi Ragazzi Vi saluto Ci vediamo Col prossimo video Ovviamente Codice Codingamer582 Ciao ragazzi Bye Ciao ragazzi